Musica Salve a tutti ragazzi sono sempre il vostro WAD e oggi siamo nuovamente su Evolve Ho deciso di tornare su Evolve perché voglio farvi vedere un po' di roba nuova Se riesco a essere mostro per questa partita voglio farvi vedere il Kraken perché ho sbloccato il Kraken e vari personaggi Vediamo se riesco a farvi vedere il Kraken perché è veramente bellissimo Ci facciamo subito una partita multigiocatore, ho sbloccato la seconda classe dell'assaltatore che è lui E sto provando anche il supporto perché mi piace parecchio Facciamo una bella schermaglia E niente ragazzi speriamo di riuscire a essere mostro Se no altrimenti vediamo di dare la caccia al mostro Sì ragazzi perfetto sono riuscito a essere mostro E come avevo detto vorrei farvi vedere il mio Kraken che ho personalizzato E mi ci trovo veramente bene Allora diamo per adesso Diamo due a vortice e una fulmine Ok E poi aumentiamo la velocità di nutrizione così Possiamo evolverci prima Ho visto che la mappa è bellissima ma è parecchio inospitale Anche per il nostro mostro Adesso aspettiamo che tutti i giocatori si colleghino Mi sa che ne manca uno Tra l'altro sono tutti di livello 10 Ho visto prima Mentre io sono l'unico di livello 8 Quindi Probabilmente mi massacrano entro pochi secondi Insomma vediamo di fare una bella partita la stessa comunque Ok ragazzi siamo in partita Con il nostro Kraken Che ha la possibilità di volare Ed è questa è una cosa stupenda Allora vediamo un po' Questa mappa la conosco abbastanza E vi dico già che è una mappa abbastanza scomoda Per noi Per noi mostri diciamo Allora massacchiamo subito Ecco questa gente qua Mangiamo subito Mangiamo 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 Ok Ok Non stanca mai ragazzi Questo gioco è Veramente non stanca mai Qui c'è roba Mangiamo più veloci che possiamo Tanto adesso Ci trovano subito Non Non è una novità La cosa bella del Kraken è che si può volare Quindi Quindi ottimo Ok qui c'è Bordello di roba Oh perfetto Massacchiamo tutto Forse riusciamo ad evolverci anche abbastanza in fretta Ragazzi Se riusciamo a prendere Eh adesso arrivano tutti Che falle Via Subito Le ho inculati ragazzi Le ho inculati Grazie Qui mi hanno ammazzato già Veloce veloce Muoviti 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 Va bene Via Subito 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 Allora Piazziamoci qui dietro Perfetto ragazzi Livello 2 Ci si casa Adesso ci si casa Allora Diamo Una vortice Una fulmine E una scossa E una scossa del sistema Via subito Via via Corri Ok Qua c'è roba Facciamo di Staccato anche lui Così Lo mangiamo Veloce Veloce Mangia 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 Prima che arrivano Ragazzi Sono spariti I giocatori Forse sono riuscito a seminarli Che Mi fa molto piacere Ecco adesso Mi vedono subito Sì dai ragazzi Partitona 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 Allora Vediamo cosa c'è Da questa parte Qualcuno muoia Qualcuno C'era qualcos'altro Da queste parti Sì Tanto vedo che Ah ci sono i bradi Qui ragazzi Sembra un'ottima partita Perché per adesso Non mi hanno Non mi hanno trovato Eccoli Eccoli ragazzi Stanno arrivando Vediamo quanti quanti Vediamoci No Male 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 Peccato c'è Un casino di fauna qui Bravo doppia D Dai attacchiamoli ragazzi Senza perdermi Dovevo Ho distratto Grande sui mie Ma Stappiamoli tutti Mastappiamoli tutti Dai ragazzi Almeno questo forse riesco a renderlo Ah è sparito il dio Che cacchi è meglio che me ne vado Devo andare subito via Subito 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 Al camion è intrappolato Quindi adesso Quanto mi disturba Il supporto È un'ottima classe da usare Averla contro è Vai perfetto Non ci sono altro Se riesco a tenerli qua giù Buoni cantilli Sì perfetto Che ti fai? Oh 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 Dai Si sono rianimati tutti ragazzi Che roba è? Che cosa Che cosa Dichissima Via tutti Voglio riuscire a devolvermi almeno a livello 3 Ah certo posso farlo Posso farlo Allora Allora se riesco a tenere in ermi questi due Sì dai ragazzi sono riuscito a uscire in ermi questi due Evolviamoci Subito E poi ce li mangiamo Perfetto ragazzi Partitona Partitona Questa è una partitona Allora io direi di puntare Tutto su Fulmine No fulmine E due cose di assestamento Ragazzi è invincibile il Kraken Ah perfetto ho vinto Mi sa che si è suicidato quell'altro Da perfetto ragazzi Mega qualsiona Sono veramente soddisfatto Ho raggiunto anche il livello 9 Grandissimo Doppia D Riduzione tempo di recupero non so che cosa serva Poi lo vediamo Abbiamo sbloccato anche un emblema E niente ragazzi intanto che ci guardiamo Tutte le nostre Progressi vi do l'appuntamento al prossimo episodio Mi raccomando continuate a seguirmi soprattutto Nella serie di Minecraft passate dal mio canale Se non vi siete ancora iscritti E mi raccomando lasciate tanti 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 Like qua sotto E da The Digital Games e Doppia D è tutto Ci vediamo in un prossimo video ciao ciao